Abbiamo appena assistito al panel capitali coraggiosi, quindi sono davvero così coraggiosi questi capitali? Nel panel si è trattato innanzitutto delle policy che sono state attuate nel paese negli ultimi anni con una ricostruzione dettagliata di quello che è stato fatto sia a livello istituzionale che a livello privato, un percorso travagliato, complicato con una partenza in cui lo Stato e soprattutto il Governo ha avuto un ruolo principale, si cercano ancora gli attori privati e soprattutto il coraggio degli attori privati a intervenire nel settore, è emersa una difficoltà di attrazione dei capitali del nostro paese rispetto agli investitori istituzionali, rispetto agli investitori esteri è emersa una grande opportunità che è quella che parte dalle università e dai centri di ricerca è emerso anche che il nostro paese sarà al centro dell'attenzione nei prossimi anni grazie alle misure che verranno attuate nei prossimi mesi dal presente Governo quindi ci sono fattori di rischio ma anche tante opportunità da cogliere Cosa è stato il risultato? Il risultato è stato evidentemente di un grande sforzo collettivo forse come sempre poco organizzato ancora ma nel quale diciamo certamente le energie dei vari operatori dai fondi venture capital, gli start-up, i centri di tecnologia anche gli stessi consulenti, operatori e gli investitori si sta convergendo intorno ad un unico obiettivo che è quello di riportare il paese verso una vera e propria sfida tecnologica che ci consenta di recuperare posizioni sul piano della competitività Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti